C'è un po' di rammarico per il risultato finale, un po' di rammarico per la prima parte della gara dove abbiamo concesso un po' di occasioni al Chiedi, è stato bravo il nostro portiere a tenere il risultato in virgo e poi sicuramente con un'ingenuità, alla fine magari non te l'aspetti, abbiamo subito un calcio di rigore che potevamo anche evitare però credo che nella seconda parte della gara il Messina è entrato in campo con un altro appiglio un altro modo di mettere in campo carattere, determinazione, ha cominciato a giocare a calcio abbiamo messo il Chiedi penso per 45 minuti nella prova di metà al campo, abbiamo pareggiato la partita potevamo vincere in diverse occasioni anche sul calcio di rigore in questo momento sicuramente ci gira un pochino male anche perché in diverse partite abbiamo perso molti punti al novantesimo, al novantaquattresimo diciamo che l'atteggiamento che ha avuto oggi la squadra nella seconda parte mi è piaciuto quindi bisogna continuare a lavorare in questo momento, credo che i periodi neri non è che durano sempre però la squadra sta bene, la squadra sta viva, l'unico rimpianto forse che abbiamo concesso il primo tempo diciamo al Chiedi, però complessivamente credo che la squadra ha dimostrato grande carattere oggi Forse il rigore sbagliato da Corona poi ha portato a quel nervosismo e all'espulsione di De Bode ci può stare una conseguenza di quello? Non sai, i rigori si sbagliano, Giorgio Domenica ha fatto collo, oggi l'ha sbagliato per carità resta sempre il nostro capitano, un grandissimo calciatore però sono più rammaricato per l'occasione che abbiamo avuto perché abbiamo avuto 3-4 palli e gol e potevamo anche chiudere la partita poi il nervosismo alla fine ci può anche stare perché credo complessivamente la partita sia stata anche molto maschia, molto determinata sia da una parte che dall'altra due squadre che abbiamo bisogno di fare punti, quindi la posta in palio era molto alta oggi A proposito di Corona, il suo impiego nella seconda parte della gara, un po' come lo scorso anno è questo, ormai ha l'età che ha e quindi può dare il suo contributo soprattutto nei secondi 45? Giorgio fino adesso ha quasi giocato sempre da titolare anche perché abbiamo avuto diversi infortuni adesso stiamo cominciando a recuperare giocatori come Chiaria, come Pedro, Costa Ferreira in settimana dovrebbe recuperare anche Maiurano, un altro giocatore importante abbiamo recuperato Guadaluppi, credo che abbiamo una squadra di grande qualità Giorgio è un giocatore molto esperto, anche se ha la sua età in questo momento magari entrando dalla panchina come ha fatto oggi ti può dare qualcosa in più, però questo non prelude al fatto che lui possa anche giocare a titolare è sempre un giocatore che quando è in campo ha un peso importante Per chiudere sul Chieti? Ma ho visto Chieti, sinceramente non voglio parlarne perché ognuno ha i propri problemi guarda in casa propria, sicuramente ha fatto un buon primo tempo nella ripresa forse ha subito la forza del Messina che è stata notevole Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti